Problema legato al mancato accordo sul contratto aziendale, sciopero al Morgan Carbon con Mirko Ricci. Quali sono le ragioni dietro a questo stato di agitazione? Allora, la partita si è aperta soprattutto sul premio di presenza, di cui noi abbiamo chiesto 100 euro nel triennio, diviso chiaramente nel triennio. L'azienda ci ha risposto per quest'anno nulla, per il prossimo anno 5 euro di aumento e per il 2024 10 euro. Fondamentalmente siamo sui 15 euro, chiaramente la distanza tra la proposta dell'RSU e la proposta dell'azienda è sostanziale. Abbiamo trovato alcuni accordi su altri punti che sono in discussione con il rinnovo del contratto aziendale, ma l'aspetto con cui c'è stata la rottura è proprio su questo aspetto del premio di presenza. Avete proclamato uno sciopero di 8 ore spalmato in 4 giorni, ovviamente se non ci saranno risposte si proseguirà sullo stato di agitazione? Chiaramente, noi abbiamo lasciato, abbiamo fatto l'assemblea il 18, abbiamo lasciato una settimana all'azienda di poterci chiamare e riaprire una trattativa, ciò che non è avvenuto. Da lì siamo entrati in sciopero a partire da oggi per i prossimi 4 giorni. Se l'azienda è disponibile a riaprire, noi siamo disponibili a riaprire una discussione sul rinnovo del contratto aziendale, se la cosa non avviene ritorneremo chiaramente in assemblea e riproporremo un'iniziativa di lotta per il mese di giugno.